Oltre un centinaio di bambini della scuola elementare montesi, classi seconde e quarte, assieme alle loro maestre, hanno partecipato questa mattina alla cerimonia di messa a dimora di alcune piante in occasione della festa nazionale degli alberi istituita in Italia con legge 10 del 2013. Nello specifico l'intento della legge numero 10 è quello di perseguire attraverso la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio erboreo e boschivo, dice appunto nel testo, l'attuazione del protocollo di chioto e delle politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del disesto idrogeologico e la prevenzione del suolo, il miglioramento inoltre della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero, nella cultura italiana e della vivibilità degli insediamenti urbani. Le piante sono tantissime varietà, una curiosità, quella più interessante è una varietà antica che proviene da un seme del platano del Piccioni che ha mille anni e quindi la regione ha preso i semi di questo albero e ha fatto dei vivai con questi semi. Questo platano è diverso da quello che vediamo in città perché le foglie sono diverse, adesso lo vedremo quando cresceranno, appunto perché è antico e poi ci sono tantissime altre varietà, sempre di vivai, di varietà molto pregiate o comunque con una biodiversità molto interessante. Dal 2017 la regione regala ai comuni questi semi. Gli alunni delle quarte classi interessate hanno però, prima di arrivare in campo, avuto un momento formativo in classe con i responsabili dell'ufficio verde pubblico del comune di Fano che hanno dato loro una informativa relativa alle tipologie di piante che si è pensato di impiantare e del perché della scelta, oltre ad alcuni principi generali sull'importanza degli alberi per la nostra vita. Una legge poi del 1992, sottoscritta dall'allora verde Francesco Rutelli, prevede che ogni comune pianti un albero per ogni nuovo bimbo nato e registrato all'anagrafe. Ogni anno piantiamo un albero per ogni nato. In realtà quest'anno ne piantiamo qualcuno in più perché preferiamo avere più alberi possibili. I nati dal settembre dello scorso anno a settembre di quest'anno sono 365, uno al giorno la media. C'è quello di aumentare la presenza degli alberi nella nostra città. L'obiettivo è quello di arrivare ad un albero per ogni cittadino. È un obiettivo ambizioso, ma noi ci proviamo. Attualmente gli alberi nella città di Fano sono oltre 30 mila, tra suolo pubblico e nel suolo privato, ma stiamo già programmando nuove forestazioni, nuove aree da destinare a boschi per la città. la città. La città. Buon appetito!